Sono oltre 13.000 le domande per il contributo Nidi Gratis accettate dalla Regione Toscana con il contributo medio assegnato a ciascuna famiglia di 2.802 euro. Di queste quasi 1.200 sono nell'aretino. Il progetto Nidi Gratis, fortemente voluto dalla Regione Toscana, è diventato una sorta di bandiera delle nostre politiche educative, ha detto il presidente della Regione Eugenio Gianni. Nell'anno scolastico 2023-2024 questo progetto ha dato la possibilità ad oltre 12.000 famiglie con isa inferiore ai 35.000 euro di mandare il proprio figlio o figlia al Nidi Gratis. Il nuovo bando ha esteso questa possibilità a 1.000 bambini in più con 13.000 domande accettate. A settembre poi il bando sarà nuovamente aperto dando modo di partecipare anche chi, per varie ragioni, non ha fatto ancora in tempo a cogliere questa opportunità. Contiamo così di portare a circa 15.000 il numero dei beneficiari. La Regione Toscana, adesso con il decreto che contiene l'elenco dei beneficiari, ha assegnato le risorse ai comuni per la gratuità del Nido a partire da settembre. L'elenco è in forma anonima, nel senso che non vi compaiono i nomi delle famiglie, ma il codice assegnato alla domanda di ciascun beneficiario, che poi nei prossimi giorni riceverà una comunicazione personalizzata. La formula di assegnazione prevede che le risorse arrivino dalla Regione direttamente Nidi Aderenti a Nidi Gratis per il tramite dei comuni. Per le famiglie che hanno un'ise tra i 35.000 e i 50.000 euro, sarà invece possibile un sostegno attraverso un altro bando, il Nidi di qualità, che si rivolge ai comuni e non direttamente ai cittadini, con il quale vengono destinati 10 milioni di euro alle amministrazioni comunali per la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.